Si chiude un anno liturgico e per la Chiesa è un momento molto significativo. Ci invita a volgere il nostro sguardo verso il nostro Re e soprattutto verso il nostro Regno. Grazie Padre Ernesto per essere qui anche oggi, ben trovato, buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana e oggi buona solennità di Cristo Re. Esatto, l'abbiamo anticipato proprio così nell'intro e noi siamo pronti per ascoltare quel che tu ci dici a proposito. Io innanzitutto farei una precisazione. Quando siamo giunti al termine di un ciclo, perché in realtà l'anno liturgico è uno, l'anno liturgico è Cristo stesso, però è diviso in tre cicli, A, B e C, perché leggiamo Matteo nell'anno A, abbiamo letto Marco nell'anno B e leggiamo Luca nell'anno C. Giovanni è un po' sparso in tutte e tre i cicli. Perché parliamo di ciclo e di un solo anno liturgico? Perché in realtà questa scala chiocciola che sale si porta al termine ma poi ricomincia a salire, quindi non è mai una chiusura, è un termine che avvolge la spirale intorno a questo asse che è Cristo. Quindi è importante dire alle nostre amiche e ai nostri amici che noi facciamo questi tre cicli, ma se anche poi continuano, perché è una progressione continua appunto come dicevamo domenica scorsa verso il compimento. Quando non ci sarà più un anno liturgico, quando come dice l'Apocalisse noi lo contempleremo faccia a faccia. Infatti oggi c'è proprio il testo dell'Apocalisse, dal capitolo 1, che presenta Cristo come testimone fedele. Abbiamo celebrato un lungo anno in cui abbiamo letto l'antico Vangelo di Marco. Oggi c'è Giovanni che ci aiuta in questa scena finale della solennità di Cristo Re. C'è un confronto tra Gesù e Pilato che viene ad assumere, al di là dell'aspetto storico, anche un aspetto simbolico e emblematico, perché Pilato è il rappresentante dell'impero romano, quindi il potere politico più forte di quell'epoca. Gesù è stato deferito a lui con l'accusa di rivendicare una regalità messianica ebraica che potrebbe minacciare il potere di Roma. L'accusa è falsa, però si fonda su un elemento oggettivo. Gesù realmente ha predicato il regno, ha predicato la messianicità, regno, messia, cioè unto, quindi re. Di fatto sembrano termini desunti dal campo politico, sono intrisi di tutta una storia terrena e politica. Questi termini potrebbero allarmare i rappresentanti del potere terreno, mentre le guide di Israele lo hanno usato apposta per far fuori Gesù. Il dialogo con Pilato, che è poi la parte centrale di tutta la passione, secondo il quarto Vangelo di San Giovanni, questo dialogo si incentra proprio sulla natura della regalità di Gesù e proietta la luce su tutte le situazioni nel corso dei secoli, dove ci sono sempre state tentazioni di politicizzare del dualismo, del temporalismo e dello spiritualismo evasivo. In realtà per noi cristiani è importante un motivo di riflessione, è importante riflettere sul senso del nostro rapporto col mondo, la cosiddetta secolarità. Gesù ribadisce che il regno è trascendente rispetto al mondo, ma al tempo stesso ci chiede di vivere in questo mondo. E quando Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, in realtà lo dice la mia regalità non è da questo mondo. Gesù è il re, ma non secondo la logica del possesso, della guerra, del dominio. In realtà il rapporto col mondo viene negato sotto questo aspetto della logica umana. Non c'è una regalità che viene dal mondo. Gesù è il re perché l'ha voluto il padre, ma è un re diverso. Quindi in realtà è interessante vedere quando Gesù dice la mia regalità non viene da qua giù. Vuol dire non siete voi che avete scelto me, io sono stato scelto dal padre. E quindi il regno di Dio non parte dal basso, dal mondo, ma viene dall'alto come un dono. E quindi ha le dinamiche proprie non del mondo, ma della logica del cielo. Allora è interessante questo linguaggio, di lassù, dall'alto, dal cielo. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutto, ha detto Gesù a Nicodemo nel capitolo 3. Quindi siamo sempre noi che vogliamo partire dal basso. Sono belle queste idee con una sorta di moto da luogo. Viene dall'alto. L'idea qual è? Che questa regalità viene dall'alto, ma noi dobbiamo stare fuori dal mondo. Anzi, Gesù è presente nel mondo. Lui è il risorto. Lui è invisibile, ma è presente in questa storia. domenica scorsa ci ha chiesto attraverso il Vangione di Marco di vigilare da protagonisti, pregando e agendo perché il mondo si avvicini sempre di più alla logica del regno. E allora è interessante guardare questo aspetto che oggi Gesù vuole dare a Pilato. Non si tratta di fare entrare la dialettica del pessimismo e dell'ottimismo. Gesù è venuto per una missione salvifica. Anzi, questa missione ha avuto la spiegata in termini di verità. Lui è la verità, cioè la rivelazione. Domenica scorsa proprio tu, Anna Maria, dicevi il linguaggio apocalittico di questo capitolo 13 di Marco. Beh, il linguaggio apocalittico è un linguaggio di verità, cioè di rivelazione. Gesù rivela, porta a compimento l'antica legge di Mosè, è venuto a darci lo spirito, ci chiede di essere fedeli alla sua parola, di conoscere quella verità perché la verità ci fa liberi. Non è una verità in senso filosofico. viene incontro questa verità che è Cristo stesso alla ricerca dell'uomo e anche alla nostra intelligenza. Direi che è come uno spazio luminoso in cui il credente che accoglie la parola si accorge poi se è o meno in Cristo. Questa è la realtà, essere in Cristo. In questa luce, allora l'uomo può dare ogni risposta, può vivere bene la sua missione. Ecco perché Gesù, nella preghiera cosiddetta della consacrazione del capitolo 17, che noi chiamiamo anche, 17 di Giovanni, che noi chiamiamo anche il suo testamento, lui ha chiesto al Padre di essere consacrati nella verità. Ma essendo la verità Cristo, Cristo sta dicendo al Padre consacrali in me, fa che siano cioè in me, che sono la parola tua. Allora, di fronte a Pilato è significativo questo riferimento alla missione di Gesù come testimonianza alla verità. Questa è davvero la legalità di Gesù. Si realizza attraverso la testimonianza alla verità, rivela il progetto salvifico del Padre. ed è contro ogni strumento di violenza, di potere. Siamo proprio agli antipodi della legalità umana, che spesso si basa sulla menzoggia, sulla manipolazione del consenso, addormentare le coscienze. In realtà no, Gesù viene a risvegliare le nostre coscienze e il nostro cuore. Questa verità che ci porta anche libertà, come diceva il Concilio Vaticano II. E allora Gesù ci indirizza al bene, alla verità nella libertà. Egli vuole regnare, certo, ma vuole regnare nei nostri cuori, con un atto d'amore, cambiando mentalità all'uomo che è portato sempre a cercare i propri interessi, il proprio potere, il dominio. Vuole in un certo senso aiutarci con strumenti che non sono quelli del potere, ma con quell'amore che lui stesso è venuto a darci. E allora noi siamo inermi, nudi, vulnerabili. Lo dicevamo anche domenica scorsa. Ma è bello questo discorso del limite. Il limite nelle mani di Dio diventa potenza. Ecco perché è importante leggere questo rapporto verità-regalità in tutte e due le direzioni. La regalità è verità. Cioè è Cristo che si presenta privo di qualunque potere terreno. ha voluto la croce come suo trono. Quindi lui dal trono sta regalità. E' dal trono che lui davvero ci sta portando il benessere. D'altra parte, la verità è regalità. Perché la verità è Cristo che su quella croce dimostra il modo in cui lui è re. inerme, privo di potere terreno. E' crocifisso. Però quella crocifissione diventa trionfo. Trionfo sulla violenza, sulla morte. Ecco perché, dirà l'Evangelista Giovanni, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Il trafitto è il vincente. Anche se sembra agli occhi del mondo un perdente. Quindi la croce diventa il vessillo splendente o l'albero della vita, come lo chiama la liturgia. Però oggi contempliamo nel Signore crocifisso quella luce che ci porta a verità e libertà. E allora esaminiamoci in che modo noi siamo in un rapporto con gli altri, con la storia, però nella verità di quel Vangelo che oggi ci viene dato. Andiamo a guardare in profondità il nostro profilo di povertà, di ascolto, di dimensione autentica della nostra libertà. Cristo ci chiede di essere liberi dalle paure, dai condizionamenti, dall'avidità del consenso, dal successo, dal manipolare le coscienze. Ci chiede povertà e ascolto come fiducia non ai mezzi umani, ma in quella potenza di Dio che nel Signore crocifisso e risorto ci ha dato l'immagine più bella. Allora, oggi noi siamo davvero spinti a guardare alla regalità di Cristo che è una regalità crocifissa e in questo modo possiamo volgerci al bene, alla verità, ma nella libertà e contemplando quella croce che è un atto d'amore davvero noi potremmo capire che solo così Dio vince in noi questo amore egoistico e mettiamo al centro della nostra vita il servizio, il bene dell'altro, la condivisione, perché o ci salviamo tutti insieme o ci danniamo. Noi dobbiamo avere direi proprio l'attenzione, l'amore, questa grande occupazione che dobbiamo avere ogni giorno di stare in mezzo ai fratelli e insieme ai fratelli perché ognuno di noi arrivi alla pienezza di questa umanità che solo il Cristo crocifisso ci rivela oggi in tutta la sua profondità e pregnanza. E' chiarissimo il messaggio insomma siamo pronti per far ripartire la ruota della contemplazione del mistero di Cristo che poi lungo anni, tempi, stagioni, proprio questo aspetto peculiare della circolarità che tu stesso ci spiegavi bene padre Ernesto. E questa è la verità cioè davvero dobbiamo guardare oggi non alla croce in senso negativo la croce per gli occhi degli uomini è stata negativa ma questa regalità che si manifesta nella croce nel quarto Vangelo è splendente di luce Cristo lì ha crocifisso la violenza dell'uomo la logica dell'uomo quella logica dei regni anche umani che sono portati a voler dominare a pensare a se stessi Dio è venuto per liberarci da noi stessi perché le persone più pericolose per gli uomini siamo noi stessi io e il nemico peggiore che ho sono proprio io dentro di noi ognuno deve fare una lotta deve vincere su se stesso un po' come dice un antico inno latino parlando del grande San Carlo Borromeo dice triunfato or sui l'uomo che ha triunfato su se stessi solo nella logica di Dio ecco solo in questa verità che ci viene detta oggi ognuno di noi può vincere sul proprio egoismo e sul proprio limite e cominciare un'esistenza nuova perché noi già qui già adesso in questo momento stiamo preparando il futuro quel futuro dell'incontro con colui che ci sta venendo incontro per farci vivere eternamente nel rapporto di luce con lui col padre nella forza dello Spirito Santo allora grazie padre Ernesto buon inizio di un nuovo cammino grazie a voi buona festa buona solennità del Cristo Re Signore dell'universo Signore della nostra vita grazie ancora alla prossima settimana Shalom Shalom e buona Pasqua della settimana Grazie a tutti Grazie a tutti